christus finché chris stupenda però che risentiate siamo diretta la san Damiano Biacentino Ave Maria Grazia beneditta a tuoi moglie ma non possiamo perché stanno già pregando il rosario qui ogni giorno pregano i tre rosari la corona per intero Ave Maria Grazia beneditta a tuoi moglie beneditta a tuoi moglie La via Crucis adesso ha iniziato il Santo Rosario, perciò è giusto rispettare il ritmo della preghiera di questo luogo santo, dove la Madonna e San Michele Arcangelo sono apparsi, possiamo mostrare proprio il luogo dell'apparizione. Questo che vedete è proprio il giardino dove la Madonna è apparsa, c'è questa statua molto bella della Madonna e dietro questo giardino custodito da una cancellata dorata si trova l'acqua che è sgorgata che la Madonna e San Michele Arcangelo hanno fatto sgorgare. E da questo luogo carissimi, così bello e intenso, mentre mi preparo ad andare a Torino per il Cenacolo Mariano di oggi pomeriggio, scenda e tristema nella nusse su tutti i due, la benedizione del Signore, soprattutto sugli ammalari dei soffereni, quelli provati nel corpo e nello spirito, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.